Ready Action! Mi chiamo Francesco Marino, ho 20 anni e vengo da Napoli. Ho deciso di studiare recitazione perché sono stato sempre un grande appassionato di cinema. Ho scelto Action Academy perché mi sono informato un po' in giro e mi sembrava l'Accademia col piano formativo migliore. Essere un attore per me significa mettersi continuamente alla prova. La vita in Accademia è praticamente perfetta. Mi piacerebbe tantissimo recitare in un capitolo del film Pirati dei Caraibi. Mi affascina molto per l'uso che fanno dei costumi di scena. Il mio attore preferito è Adam Sandler. Apprezzo tantissimo il fatto che sia un attore di grandissimo livello sia nella parte comica che nella parte drammatica. Mi piacerebbe moltissimo avere l'occasione di recitare con Alessandro Borghi che è uno dei talenti più in voga del momento. Se il tuo sogno è quello di diventare un attore, credici fino in fondo, studia e prima o poi le opportunità arriveranno e riuscirai sicuramente a realizzare il tuo sogno. Ragazzi, la campanella, devo andare a lezione. Un saluto a tutti da Action Academy.